Però sicuramente la parte più conosciuta è quella della fontana, alla quale arriveremo quasi volando da via dei condotti. La fontana della barcaccia, che sembra quasi un nomignolo in realtà, noi che qui a Roma amiamo tanto i soprannomi, sembra un nomignolo a barcaccia, come se fosse brutta. In realtà la barcaccia ha questa forma della barca, fu disegnata e scolpita da Pietro Bernini, padre del ben più noto Gian Lorenzo Bernini, per il Papa Urbano VIII, il Baro VIII Barberini. Ora, si pensa che la motivazione di questa barca larga, quasi con una chiatta ma bassa in confronto alla piazza, sia dovuto al fatto che l'artista, all'epoca architetto in carica dell'acquedotto dell'acqua vergine, non abbia voluto cambiare la pressione naturale dell'acqua che arrivava in quella piazza, quindi non avendo abbastanza pressione per creare una fontana monumentale, ha creato questa chiatta bassa rispetto al livello della piazza. I soli che trovate all'interno sono simbolo di Papa Urbano VIII, ma se ci spostiamo sul lato della fontana troviamo lo stemma di Urbano VIII.